una giornata bellissima a seguito di una notte molto complicata i ragazzi hanno fatto un lavoro eccellente per me la parte più difficile è stata prendere sonno sono comunque veramente contento di come è andata oggi era una giornata complessa al punto di vista psicologico perché venivamo da un periodo difficile reagire così è veramente un bel segno per la squadra si è vincere così è il modo più bello di vincere perché abbiamo reagito a un momento difficilissimo una rimonta importante degli americani nessuno ci nessuno ci credeva ma sapevamo che sarebbe stata una sfida dura poi sicuramente la difficoltà della seconda prova di ieri accettare che dovevamo passare una notte a riparare una barca un po acciaccata è stato è stato una bellissima un bellissimo modo di vincere ma il nostro metodo di preparazione sarà sempre lo stesso che abbiamo usato fino adesso credere in noi credere nei nostri sistemi nei nostri allenatori nelle nostre analisi e lavorare a testa bassa e allenarci tanto da qui alle finali